La metrologia è la scienza della misurazione, ma le misure fanno parte del nostro quotidiano. Chi non ha una bilancia in casa? In cucina è una regina, non ci sono dolci senza una bilancia. Misuriamo la quantità di farina, di zucchero. Solo se la bilancia misura bene e se la ricetta è buona, avremo il nostro dolce come deve essere. Diversamente rischiamo di buttare tutto, tempo, soldi, energie. Gli strumenti che utilizziamo per misurare, sia a casa nostra che in un laboratorio, devono quindi essere in grado di dare risultati accurati, buoni, validi e corretti. La metrologia ci aiuta a garantire che le misurazioni siano corrette.